ehi, ciao a tutti 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 e a tutte se è la prima, prima, primissima volta che guardi uno dei miei video mi presento, io sono Vero Wild A-A-S-M-M-R e state guardando uno dei 30 video che pubblicherò uno dopo l'altro perché ho deciso di fare questa challenge, 30 video in 30 giorni allora passiamo subito al trigger di questa sera ecco perché c'è il Blue Yeti in primo piano andiamo a togliere la cover perché questa sera vedrete del gran brushing sul bellissimo Blue Yeti andiamo a togliere la cover grazie a tutti 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 grazie a tutti